Come si può anticipare qualcosa della sua lezione domani? Come si può anticipare qualcosa della sua lezione domani? Certamente. Siamo tutti conosciuti che la media sociale è grande. Ha tantissime conseguenze sulle lezioni. La gente fa queste accade che non sappiamo più che amico è un amico, che è cambiato. Ha tantissime conseguenze sulle lezioni di persone. In realtà la mia lezione è sulle lezioni di antropologi. 9 antropologi, tutti i quali hanno spento 16 mesi a 9 luoghi all'interno del mondo, anche in Italia, per cercare di trovare cosa è l'uso e la conseguenza dei social media. delle singole comunità. E che cosa ne pensi dello stile nei social media? Una delle cose che sappiamo è che la media sociale non è realmente determinata solo per le plateforme, Twitter, Facebook, Snapchat. In ogni posto dove andiamo, le persone hanno un stile diverso in modo da usare le social media. Quindi un esempio è che sappiamo che le persone postano queste selfie, tutti si interessano. Ma in realtà, quando si compara come gli italiani prenderanno una selfie, è completamente diverso dal modo che gli trinidadiani prenderanno. Gli trinidadiani hanno bisogno di vedere completamente diverso da l'altro, mentre gli italiani è molto importante per vedere come una buona idea italiana di quello che è il proprio stile. Allora, lo stile è differente a seconda del luogo e della comunità in cui si sviluppano i social media. indipendentemente dalla piattaforma, che sia Snapchat, Facebook o Twitter, ma comunque è importantissimo il modo in cui una comunità si rapporta al social media. Per esempio, gli italiani vorranno sembrare perfetti, bellissimi e tutti uguali secondo un concetto di moda, mentre altre comunità, come i lavoratori cinesi, invece guarderanno al social media in un'altra completamente differente ottica. Cosa pensi del futuro dei social media per la prossima generazione, la generazione dei genitori oggi? Si guarderanno i social media in un stesso modo che stiamo guardando i social media oggi? e le nuove generazioni guarderanno i social media nello stesso modo in cui noi li guardiamo oggi o si preoccuperanno i social media in una maniera differente? In un certo modo, credo che per i giovani non c'è nulla cosa come i social media perché, praticamente, si riconosceranno che ci sono molte mani differenti di comunicare. C'è il telefono, c'è il broadcast, e ora ci sono tutte queste cose in giro. Potremmo avere un gruppo piccolo, un grande gruppo, ma è proprio parte della forma che utilizziamo i smartphone. In un certo modo, i social media sono diventati app su smartphone con molti altri app, e questo significa che hanno molti diversi opzioni depending on what particular kind of communication they want to do. More visual, more textual, more oral, family, friends, etc. It's just becomes a normal part of the range of communication. I social media diventeranno solo una parte normale del range di comunicazioni possibile per le nuove generazioni. Non saranno più etichettati come qualcosa di differente, come qualcosa di specifico, ma saranno invece integrati nel modo che avranno le nuove generazioni di relazionarsi con le loro possibilità attraverso lo smartphone, attraverso la televisione, ma loro decideranno a seconda della loro differente esigenza di comunicazione che cosa usare senza preoccuparsi più di stare utilizzando i social media. Professor, thank you very much for this time, and I wish the best for the lecture of tomorrow. Grazie mille. Grazie mille. Fejdeci. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.